Il vostro è un concerto con i poveri, con i poveri. Questo è decisivo, questo con è la chiave. Passare dal per al con, passare dal per i poveri a con i poveri. Si parte dal per, ma si vuole arrivare al con, e questo è cristiano. Il vostro è un concerto con i poveri, con i poveri. Il vostro è un concerto con i poveri. Il vostro è un concerto con i poveri. Il vostro è un concerto con i poveri.